Siamo arrivati l'altro ieri, venerdì. Il tempo fosse molto migliore, sole, caldo e invece pioggia e freddo. E cosa avete fatto questi giorni? Girato, grazie alla metropolitana, ci siamo mossi e stiamo visitando la città che è molto bella. E fino a quando restate? Lunedì. Intendiamo comunque andare avanti con le nostre visite, con il nostro programma, però speriamo che il tempo migliori. No, speravamo meglio invece, c'è brutto, pioggia, freddo, vento, non il tempo da mare, che visto che Barcellona era sul mare, quindi pensavamo un po' al tempo diverso. E cosa avete fatto questi giorni? Abbiamo girato un po' sulle rambla, abbiamo visto un po' la città, abbiamo preso la metro, anche se volevamo andare a piedi perché pioveva, quindi c'è toccato andare sotto terra per non prendere l'acqua e la pioggia.